Allora ragazzi stiamo registrando l'intervista per, eh me lo si fa bello, stiamo registrando l'intervista per AM Per dire che il nostro film è finalmente in streaming al costo di 3 euro per l'affitto, 7 euro per l'acquisto Noleggio Melo, affitto, via me la ragazza Noleggio infatti, 3 euro il noleggio, 7 euro l'acquisto Non so se riconoscete questo sfondo, adesso è diventato un magazzino di roba, di casino E' pieno di zanzà Di confusione E niente, siccome per adesso siamo sfrattati, siccome per adesso ci hanno sfrattato e stiamo aspettando la ristrutturazione del nuovo studio Ah ok, già a quel momento siamo Sì, sì, e quindi per adesso ci accontentiamo di ritornare alle origini Ah che porco cane Ah che porco cane Ci sono dei zanzari assali Che è andato negli Uchi Cinemas in Canada in streaming e stiamo preparando il secondo Poi se vogliamo dire qualcosa in più Ah, non ho capito Che è andato a Uchi Cinemas in Canada in streaming e stiamo preparando il secondo E noi cosa dobbiamo dire adesso? Eh questo, questo dobbiamo dire noi Tre parole dobbiamo dire, quanto deve durare? No, tre parole Abbiamo fatto le proiezioni nella zona Poi è andato in Canada alla settimana italiana a Montreal E' andato in tutti gli Uchi Cinemas della Sicilia e stiamo preparando quello nuovo E poi ti dico qualcosa io su quello nuovo Ci vorrebbe una magliettana in un'altra Vabbè compare, è sempre tuo, va al solito però Comunque Se che non ti impegni Quindi è andato... non ho capito Allora, è andato a Uchi Cinemas Compare, quello che è successo Ok, ma dobbiamo articolare un pochino il discorso, no? Dobbiamo farlo più lungo Ma non parla di malamori Vai, ti faccio le domande io Parla di malamori Ok Parla di malamori Allora, malamori come ben sapete Penso ormai tutti quanti qui in Sicilia E' un film ambientato nella Sicilia Parla di serio, non parla Dai Allora Malamori come ben sapete E' un film ambientato nella Sicilia degli anni 50 Malamori è un film ambientato nella Sicilia degli anni 50 E parla della storia d'amore tra Carmela Una ragazza siciliana Eeeh, il giorn... Ma davanti, va Ok Malamori è un film ambientato... No No, no, aspetta perché voglio fare un discorso unico Che spiego tutta la trama, no? Eh, abbe, fai delle pause ogni tanto Allora, Malamori è un film... Malamori... In che è difficile parlare alla camera Sempre la rifiuto E' abbe, poi non la vuoi tagliare tu Eh, no, sì, ma in base a come parli Se tu ancora lo fai discorsivo Allora, perché i... Parlaci delle proiezioni di Malamori Malamori ha avuto un buon successo soprattutto nella provincia di Messina dove ha fatto proiezioni full... Immersion Come si dice? Full immersion Ok Malamori... Assolutamente In che è un po' Hai zerato tutto, hai a zerato Adesso? Dove lo potrete trovare? Adesso lo potete trovare sul nostro sito www.maisondellartv.com in streaming Dove potete noleggiarlo al prezzo di 3 euro E comprarlo al prezzo di 7 euro Ok Sono anche disponibili il DVD Ci potete contattare sul sito, sui social network o dove volete Quindi per vederlo avete l'imbarazzolo della scelta E non avete nessuna scusa per dire non l'ho ancora visto Diciamo adesso siamo contenti perché tutto ci è diventato un lavoro Abbiamo aperto la nostra società quindi Speriamo presto di iniziare le riprese del nuovo film E di vederci al cinema o magari in qualche festival Dove presenteremo il prossimo film 2000 passi Ti muovi assai con le mani Non ci fai niente Comunque ridillo che ti senti il padort E quindi speriamo di arrivare Comunque siamo contenti perché il nostro Comunque siamo contenti perché grazie a Malamuri Adesso siamo una società di produzione professionale Stiamo producendo appunto questo secondo film Che si chiama 2000 passi E avremo la possibilità di portarlo adesso In distribuzione nazionale ed internazionale Quindi speriamo di iniziare presto le riprese Nel frattempo guardate Malamuri E vi ringraziamo per tutto quello che è potuto E vi ringraziamo per averci E vi ringraziamo per averci fatto arrivare a questo punto Seguiteci Allora Seguite E dietro di bordo non è il video del mese Ok Dietro di bordo che faccio Vittoria? Parli Ah E niente Benvenuti nel nostro terreno Questo è il nostro castello Stiamo andando al nostro nuovo studio Non ve lo facciamo vedere Che per adesso è questo qui Lo faremo vedere più avanti Praticamente qui dobbiamo fare lo studio In questo pezzo qua Spiegami come deve venire È un po' più piccolo di quello di quartieri Diciamo Niente Questo qua sarà tutto l'ingresso Questo uno entra E ho deciso di farlo in un piano Quindi l'ingresso è fino a qua Questo pezzo è Qui faremo il bagno Un bagnetto piccolino E qui due uffici Tagliato a metà Un ufficio Quanti metri quadrati è? Non lo so Sarà di coinvolgere Ai 15 metri quadrati Bene Togliendo Vi piace? E questo è il nostro giardino Il giardino è più grande dello studio Aggiornamenti più seri Niente Ci stiamo facendo fare i preventivi Appunto Per fare il nuovo studio Basta Solo questo? Eh sì Basta Ancora Malamuri Dà i suoi frutti Niente Spero che tutti quanti Abbiate visto il nostro La nostra intervista Su AM Perché Malamuri È in stringa adesso E niente Siamo qui Melo chiude Una seranda Che si è dimenticata Aperta ieri E lo studio Quello abbiamo Ancora non ha neanche Porta e manco seranda No Qua ci siamo nel futuro Che l'abbiamo Abbiamo edificato Una parete sola E già c'è la seranda Facciamo una parete alla volta Oh facciamoci un giro nel sterrano Mi fa male la vita Pari secondo me Aspettano la tua carta di identità Proprio Secondo me Sono scudato La dovevano mandare venerdì Gli devi chiamare Gli devi chiamare Ma domani mi dovrebbe arrivare La carta di identità Dovrebbe Mi ha detto che 5 giorni Quattro cinque giorni Gli mando una mail Ancora non abbiamo ricevuto niente Giove Siamo Nell'ingresso dello studio Ci è capitato l'acqua Comunque raga Noi vorremmo essere un po' più Vorremmo essere un po' più Esaudienti Dal punto di vista Del racconto Della narrazione Ma Siamo bloccati dalla burocrazia Da gennaio Ed è praticamente Ottobre E sta finendo pure ottobre Figuratevi che gli è scaduta La carta di identità Pure a Melo Cambria E l'ha dovuta rifare Quindi niente Per adesso In teoria A giorni si dovrebbe sbloccare tutto Però Siamo qui Speriamo di farvi vedere Tutto il prima possibile Piove Siamo rimasti qua Però Devo dire Che c'è della magia Nell'aria Guarda Tu cosa ne dici Melo C'è della magia Nell'aria Ti vedo Adesso Siamo sotto gli alberi Quelli che ci sono Nel cimitario Quindi sento l'odore di cimitario Quella adesso Ma questi non sono Anche bellici Sì Sono quelli là Tipo No Quelli sono lunghi Ma questi Sono questi Guarda Sono bellini Sì Sono bellini Però c'è quell'odore Capito Però sì È bello il posto Vabbè Tra poco è il 2 novembre Quindi Dunque Ad Halloween Se la facciamo qua La festa viene forte Perché Abbiamo luce Così di spesso Non c'è niente Non c'è niente Non c'è luce Ma Ma cazzo la facciamo qua Piove è forte Piove è sempre più forte Forte Piove No Mentre Ancora l'albero ci poteva Voteggio Prima arriva un po' E sotto gli alberi Non si sta È rai Non è arrivato Porca Per Piove è sempre più forte